Oggi abbiamo avuto il Consiglio Affari Generali, l'esordio della Presidenza Croata. Quindi ben arrivata la Presidenza Croata che ha presentato le sue linee di guida, di azione per questi sei mesi. Le sfide che una Europa forte deve affrontare a livello globale, come è lo slogan della Presidenza Croata, che avrà anche appuntamenti importanti come a maggio il vertice a Zagabria sull'allargamento su cui stiamo lavorando. Abbiamo discusso della conferenza sul futuro dell'Europa, la prima discussione in preparazione di un processo che si aprirà il prossimo 9 maggio. La Presidenza Croata proporrà Dubrovnik come sede del lancio di questa conferenza, in cui sarà importante l'inclusione dei cittadini sui grandi temi dell'Europa e anche tutte quelle che sono per i governi, i rappresentanti ovviamente del Parlamento europeo, dei rappresentanti dei Parlamenti nazionali, saranno le riforme istituzionali su cui ci sarà attenzione. Oggi un primo dibattito. E poi il bilancio. Questo è un mese importante. Come sapete è stato convocato il Consiglio europeo il 20 febbraio sul bilancio europeo. Quindi oggi abbiamo iniziato a discutere. Io ho avuto un bilaterale con il commissario Anna al bilancio. Sarà il mese in cui i negoziati andranno avanti. Io adesso incontrerò la cabina di regia dei parlamentari italiani. Settimana prossima verranno rappresentanti del Parlamento italiano insieme ai parlamentari europei per fare una discussione sul bilancio. Ci sarà poi il CIE, il Comitato interministeriale affari europei presieduto al Presidente del Consiglio a metà mese dove il tema del bilancio sarà centrale. È un bilancio importante per i capitoli principali, agricoltura, coesione, ma anche per le nuove risorse, per le nuove sfide che abbiamo avanti. Questi sono i temi al centro del Consiglio. Io adesso mi rego in Parlamento dove avrò anche un incontro con Federa Alimentari. Il Governo ieri ha presentato al Mise in concerto con altri ministeri anche la proposta di nutri, la nostra proposta di etichettatura sul food, che è un tema che la Commissione svilupperà nei prossimi mesi e su cui l'Italia ha recuperato un po' di ritardo perché questa proposta non era stata avanzata. L'abbiamo fatto in pochi mesi e l'abbiamo presentata alla Commissione oggi anche qui in Parlamento.